Da venerdì scorso sul balcone del Palazzo Comunale di Montesano sulla Marcellana sventola una bandiera venezuelana, una bandiera che nel 1801 fu pensata dal generale Francisco de Miranda e denominata Tricolore Mirandino. Una bandiera che è stata esposta dal sindaco Giuseppe Rinaldi per dimostrare con questo semplice gesto la vicinanza della sua comunità ai venezuelani che da tempo stanno vivendo un triste periodo economico e sociale. Una solidarietà che punta ad abbracciare soprattutto i montesanesi emigrati venezuela che sono tanti almeno 2717. Oltre ad esporre il Tricolore Mirandino Rinaldi ha inviato al ministro degli affari esteri una lettera quella quale esprime la sua contrarietà rispetto all'atteggiamento neutrale assunto dal governo nei confronti degli emigrati in Venezuela. Secondo il sindaco del Vallo di Diano c'è disattenzione e poca sensibilità nei loro confronti, di qui il suo invito a cambiare rotta tendendo la mano agli italiani che risiedono in Venezuela.